Sì Ete ready? Sì Stand by! enmity Hai, здоровo Add where you take Além the Behind Oisted Looking؟ In theерь Shooter Are you ready? Yeah Dai Vai Ferrari Selan Terima Lorg if you are finished on load 3 4 6 4 Are you ready? Si And by oh 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 Is clear hammer down also Range is clear Tempo 2-5 Ok Ok Shooter Are you ready? Si Stand by It's your finish Unload the shock liar Is clear Hammer down Alt Stand is clear Are you ready? Si Stand by se si è finito, allora si è clear se è clear, hammer down, pulso se è clear si, si si, si si è finita, giusto se è clear clear, hammer down tempo, due puoi si si stand by Ok Siamo pronti? Sì Stand by Siamo pronti? Siamo pronti? Siamo pronti? Siamo pronti? Siamo pronti? Grazie.